Il trucco della frase generica funziona così, si basa su questo effetto barnum o barnum. Perché queste frasi nella pubblicità, pensiamoci, tipo perché tu vali, roventa, per chi non si accontenta. Queste frasi così ad minchia perché funzionano. Numero uno funzionano perché sono talmente vaghe e generiche che le sentiamo personalizzate, un po' come l'oroscopo. Ho letto oggi l'oroscopo del leone, per il leone grande giorno, capelli a gogo. Esattamente stai parlando con me. E questo uso del tu in continuazione nella pubblicità, tu, proprio tu. E a noi uton ti sembra che la pubblicità stia proprio parlando a noi. Il secondo motivo per cui funzionano è che tendiamo a valutare in base alla nostra emozione del momento e non ai fatti oggettivi. Prendi ad esempio la frase per l'uomo che non deve chiedere mai, Belin, io non posso neanche buttare la pasta senza chiedere permesso a mia moglie.